cari ragazzi buongiorno a tutti sono il professor domenico robbe presidente del corso di laurea in tutele benessere animale dell'università degli studi di terra e la passione per gli animali per la natura per le produzioni alimentari ecosostenibili la leva per iscriversi al corso di laurea in tutele benessere animale è indicato per tutte quelle persone che amano fortemente gli animali che per vari motivi non vogliono fare il medico veterinario ma vogliono lavorare con gli animali questo corso fornisce conoscenze e competenze per attività professionali in diversi ambiti quali la gestione di sistemi di allevamento convenzionali e alternativi rispettosi del benessere animale la gestione delle fattorie didattiche delle fattorie multifunzionali e dei centri finalizzati all'impiego di animali da servizio tra quali la pet therapy la gestione di centri di recupero e la fauna selvatica inoltre come tecnico veterinario il laureato in tutela e benessere animale potrà lavorare nelle strutture medico veterinari nell'ambito della sanità e benessere degli animali allevati compresi gli animali da compagnia e da laboratorio la tutela del benessere degli animali rappresenta uno degli obiettivi fondamentali dell'unione europea e pertanto la richiesta occupazionale divarrà sempre più pressante nei prossimi anni la facoltà di medicina veterinaria dell'università di teramo percorrendo i tempi riconoscerà immediatamente dal laureato in tutela e benessere animale le competenze acquisite nel campo degli interventi assistiti con gli animali e in quello del personale paramedico per le ambulanze veterinari offrirà anche la possibilità di trascorrere periodi formativi pratici presso l'ospedale veterinario universitario didattico della nostra facoltà o presso numerose strutture private e convenzionate già da secondo anno di corso di laurea lavorando in simbiosi con i medici veterinari. I punti di forza di questo corso sono alcuni insegnamenti unici nel panorama nazionale per quanto riguarda questa classe di laurea che annoverà insegnamenti quali la psicobiologia animale, la pet therapy, la riabilitazione e i laboratori di assistenza comportamentale e istruzione cinosma. Questi corsi attualmente richiamano studenti da tutte le parti d'Italia infatti in questa classe di laurea è un corso con la più elevata percentuale di studenti provenienti da fuori del giorno. Per tutto questo contattateci quando volete siamo a vostra completa disposizione. Ciao e a presto!